e dopo la vittoria di sette giorni fa contro la Baldaccio Bruni il Foiano cerca tre punti per consolidare la classifica mentre l'antella arriva allo stadio dei Pini nel tentativo di fare il sorpasso sul Foiano dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Grassi ma l'ultima partita del 2021 per chiudere in bellezza e per iniziare al meglio nella prima giornata del girone di ritorno allora di nuovo un buon pomeriggio per questo big match tra Foiano e Antella da Francesco ben in casa ultimo check e ci siamo iniziato così il match tra Foiano e Antella Bettoni ad andare a cercare lungo pareggi che è più bravo a spizzare di testa poi grattarola a sua volta Verdelli può far correre Pavani posizione regolare Pavani il tiro di Pavani palla fuori Mazzoni questa volta il mancino a rientrare densità in area amaranto il cross che arriva a cercare Palae con la testa ha saltato benissimo il numero nove anzi no capitana Mignani staccato benissimo con calma Fabianelli a cercare dentro Mostacci con il tacco per il tiro da parte di Ruffini corner anche per il Foiano altra occasione rientra a cercare il sinistro il cross che arriva la palla messa fuori Mazzoni controllo il numero dieci la palla dentro per Palai non si era alzata la bandierina di Lembo e allora Bettoni in presa sicura Bettoni errore di Bettoni che colpisce sulla schiena Palai controlla il numero dieci il cross che arriva alla ricerca di Pavani con il corpo Pavani si gira prova a caricare il destro Pavani in gol ma si alza la bandierina di Lusi tutto fermo dato guadagnarsi qualche secondo evitando a Bettoni di batter velocemente questa palla far rischierare la propria difesa in posizione regolare e qua termina così il primo tempo su questo rinvio di Bettoni e allora se riparte se 45 minuti sono stati scritti 45 adesso da scrivere con l'antella con il destro lungo a cercare Mazzoni nocentini a vuoto palla che arriva nei piedi del numero dieci affrontato da Travaglini in area di rigore Mazzoni il cross che arriva sul secondo palle per Palai la spizzata dietro il tiro poi di Manetti la toccano centina palla che arriva su Palai il controllo del numero nove una serie di palleggi palla che arriva su Mazzoni si gira in area di rigore Mazzoni carica il sinistro Bettoni la sporca tanto quanto basta per mettere la palla fuori su questo retropassaggio di Martini prova ad approfittare proprio il numero nove adesso bravo Mignani può perdere la palla Rufini in area di rigore il cross che arriva coapisce tutto Bartolini che ci mette all'ultimo una pezza perde un po' l'attimo capitano riesce comunque a trovare Rufini il tiro di Rufini ci ha provato il numero nove conclusione però abbastanza semplice da controllare con lo sguardo per D'Ambrosio grattarola con le mani termina così il 2021 per la nuova Foiano e per l'antella termina zero a zero questa prima giornata del Gironne di ritorno la dodicesima giornata del Gironne C di eccellenza Toscana a 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